E' attivo ufficialmente dalla giornata di ieri, martedì 27 ottobre, il reparto Covid presso il nosocomio agropolese situato in località Marrota, al secondo piano della struttura ospedaliera. Nel reparto Covid sono attualmente operativi sei posti di terapia intensiva e due di sub-intensiva. Nel pomeriggio di ieri diverse sono state le ambulanze biocontenitive che hanno trasportato pazienti da altre strutture ospedaliere della provincia di Salerno presso il nosocomio agropolese. Ma tracciamo un bilancio di come è andata la giornata di ieri proprio con la responsabile del reparto Covid, dottoressa Rosa Lampasona. Sì, ci aspettavamo quello che è successo nella giornata di ieri perché come sappiamo la pandemia è nella fase ormai 3 e il nostro territorio stava già soffrendo da tempo. Quindi avevamo anche un'urgenza di aprire quello che già era pronto da tempo, dovevamo soltanto finire di ultimare piccolissime cose che ieri in accelerazione massima nelle ultime 48 ore sono state fatte proprio per garantire l'assistenza a tutti i pazienti che avevano necessità e che erano al momento appoggiati in altri presidi ospedalieri già in sovrannumero. E quindi anche i colleghi e operatori sanitari erano totalmente in sofferenza, per cui abbiamo fatto un'accelerazione massima oltre le forze e con l'impegno di tutti, veramente di tutti, non solo operatori sanitari ma tutti quelli che contornano una struttura del genere. Quindi parlo di tecnici, ingegneri che ci hanno supportato, di tutto quello che necessita proprio dell'apertura di un ospedale, in questo caso Covid, che non è soltanto un letto ma è tutto quello che supporta. Quindi abbiamo fatto questa accelerazione massima negli ultimi due giorni, volevamo ulteriormente prolungare l'apertura ma non si è potuto e quindi ieri mattina si è deciso di aprire alle ore 14, dalle ore 14 ad oggi. Stanno pervenendo con un'accelerazione massima questi pazienti, possiamo dire che siamo quasi totalmente pieni e quindi in virtù di un cronoprogramma fatto ieri con persone che fanno questo, cioè il professore Polverino, il mio capodipartimento, Fernando Chiumiento, abbiamo già avviato un programma insieme al direttore sanitario aderario di vita proprio per ampliare ulteriori posti letto e per dare la possibilità a coloro che effettivamente non possono essere più gestiti negli altri ospedali perché già sono in sovrannumero, di poterli accogliere nella nostra struttura. Tengo a precisare, essendo una cittadina agropolese, e questo mi preme sottolinearlo, che il nostro ospedale viaggia con una sicurezza massima. Siamo riusciti ad avere, come già organizzato da tempo, da mesi, perché ci aspettavamo questa evoluzione di questa negatività in pandemia già avuto in una prima fase a marzo, quindi come sanno tutti abbiamo incominciato a lavorare a marzo per poter assicurare un percorso sicuro. Questo percorso lo abbiamo lavorato a marzo, aprile e maggio per avere questo percorso. Quindi la sicurezza, mi sento di dire ai cittadini, di essere tranquilli. Tranquilli perché i percorsi sono completamente separati. Noi abbiamo un ingresso completamente autonomo, dove non c'è commissione con pazienti che arrivano da un primo soccorso che abbiamo tenuto attivo. Quindi lì dove c'è la necessità, come era già prima, che il paziente abbia necessità di un primo soccorso tutto è rimasto uguale. Il percorso pulito, chiamiamolo pulito, è assicurato. Così come abbiamo lasciato i posti di medicina con una riduzione giustamente solo del numero perché ci serve un supporto anche di figure professionali nel Covid Hospital ma tutto resta uguale. Quindi percorso pulito, abbiamo creato questo percorso alternativo che ci permette di giungere direttamente con l'ambulanza che arriva col paziente con il biocontenimento. Quindi arriva un'ambulanza dedicata con questa barella di biocontenimento, fa un percorso a parte, percorsi differenziati, ascensori differenziati ci tengo a precisare. Per cui si arriva direttamente nel secondo piano dove è obbligato questo riparto che in questi mesi abbiamo costruito con tutte le normative vigenti, con tutte le sicurezze che abbiamo. Questo sia per far lavorare in sicurezza noi operatori sanitari e per far sì di accogliere al meglio il paziente tenendo i separati i percorsi. Quindi voglio assicurare tutta la popolazione nostra che non c'è commissione. Quindi se come prima qualcuno avesse bisogno di un pronto soccorso, il primo soccorso attivo già da tempo ad Agropoli, ne può soffrire tranquillamente, in piena tranquillità, in piena sicurezza e serenità. Giustamente siamo orgogliosi di poter utilizzare la nostra struttura e ne siamo fieri di questo a favore di tutti i cittadini che ne hanno bisogno. Per noi è un orgoglio, lo dico fortemente e spero che venga capito da tutti. È un orgoglio poter assistere perché potrebbe capitare a chiunque di noi. Quindi non essere assolutamente discriminatori. È un virus, bisogna combatterlo insieme, tutti, anche chi è da casa. Ci deve aiutare, almeno con il sostegno morale, diciamoci morale. Quindi non è una malattia che bisogna isolare, assolutamente. Bisogna aiutarsi. In questo momento tutti dobbiamo aiutarci tra di noi. Quindi dobbiamo essere orgogliosi. Non vediamolo come il Covid hospital, una cosa negativa, ma una cosa positiva. Positiva perché possiamo fare del bene a chi ne ha bisogno, ognuno di noi ne può essere coinvolto e non discriminare chi abbia un Covid. Sia che sia a casa e possa essere gestito tranquillamente a casa, chi invece è in ospedale per avere della cure e assistenza ai maggiori per poter tornare a casa a condurre la vita di sempre. Quindi io questo chiedo a tutti. Un sostegno morale per chi lavora. Siamo tantissimi dentro, stanno arrivando tanti rinforzi, lo dobbiamo dire. Infatti, dottoressa, scusi se la interrompo. Ecco, vogliamo far capire anche a chi ci sta seguendo come è distribuito il personale, sia medico che infermieristico, all'interno di questo reparto speciale. Io sono un anestesista rianimatore, ho avuto la responsabilità sicuramente non facile iniziale di un'organizzazione, supportata da altri colleghi che mi stanno arrivando. Quindi diciamo che adesso siamo già a quota 5, io parlo dei colleghi anestesisti che lavoreranno con me nel Covid Hospital, ma questo sicuramente sarà in evoluzione perché aumenteranno i pazienti, quindi c'è maggiore assistenza. Giustamente si stanno reclutando anche, oltre il mio collega infettivologo, dottore Gianfranco Ielmi, che è responsabile dei posti a media e bassa intensità, stanno reclutando altro personale specifico per poterci dare una mano. Sicuramente tanti infermieri che stanno rispondendo, oltre a delle manifestazioni di interesse, abbiamo anche infermieri della protezione civile che ci stanno supportando, da Bergamo, Roma, Sicilia, quindi stiamo avendo anche questo ulteriore aiuto che ci serve, ci servirà nelle prossime ore, nei prossimi giorni, perché veramente, come si dice, è così. Quindi bisogna darsi una mano un po' a tutti, nel nostro piccolo ognuno di noi. Sicuramente nei prossimi ore, nei prossimi giorni avremo ancora supporti maggiori, perché le cose vanno veramente in progressione, non mi sento di dire cosa succederà nelle prossime ore, faremo sicuramente un aggiornamento continuo, anche per far sì che tutti possano capire, comprendere e stare soprattutto sicuri e tranquilli. Questo mi sento di dire che è la cosa forse fondamentale in questo momento. È vero la televisione, però basta lavorare in sicurezza, cosa che stiamo facendo noi operatori sanitari. Voi le regole le conoscete ormai da tempo, le continuate a rispettare in questo modo, ci aiutate, perché dobbiamo assistere quelli che già hanno il Covid, ok? Ma cerchiamo di frenare gli altri che potrebbero arrivare. Questo soltanto rispettando piccole norme. Allora aiutateci, aiutateci in questo senso. Voi rispettate le regole, chi è a casa, piccole regole, penso non è niente di sacrificio veramente immane, e aiutate noi a lavorare su quelli che adesso stanno male e dobbiamo sostenerli, in modo tale da poter frenare almeno per quel possibile ognuno di noi e tornare tutti a una vita serena, tranquilla e normale. Noi la ringraziamo, dottoressa Lampasona. È importante quello che ha detto nell'ultimo passaggio della sua intervista di informare ovviamente i cittadini, soprattutto di Agropoli, che hanno questo reparto altrettanto importante per dare aiuto a persone che ovviamente necessitano di ricoveri, però avere una giusta informazione da parte di personale medico, in questo caso la sua figura, rassicura anche le tante persone che a casa seguono la nostra informazione, magari vogliono capire nel dettaglio cosa sta accadendo presso il nosocomio agropolese. Noi ringraziamo ancora una volta la dottoressa e le auguriamo davvero buon lavoro, anche a tutto lo staff del presidio agropolese, speriamo che questa battaglia contro il coronavirus possa presto essere soltanto un brutto ricordo. Grazie.